E' veramente un libro che non c'è qualche cosa, dentro qui c'è il libro, deve essere il punto, e in questo cuore lo abbiamo ancora capito bene, di fortissime emozioni che Mara ha poi risolto e concluso e esorcizzato dentro questo libro, che ha anche un ritmo che si adatta moltissimo alla festa del cuore di oggi. Perché? E' scritto, quando lo si legge, ha un ritmo che sembra quello del battito di un cuore. Io te l'ho sempre detto, perché anche la scrittura è fondamentale, naturalmente, è ovvio, sto dicendo un'ovvietà, sembrerebbe. In realtà non è così scontato, cioè quando un libro, quando una scrittura segue una trama e si sposa con questa trama, in questo modo, cioè Mara qui ci ha messo il cuore e qui batte il suo cuore, sicuramente, e batte il cuore di questa storia, di queste storie, perché in realtà questo libro intreccia le storie di due protagonisti, che poi diventano altri ancora, come le matriosche. E tutti questi protagonisti parlano di sé, raccontano le loro emozioni, tutti in maniera molto diretta, ecco qui invece subentra una scrittura che sembra il pensiero, sembra tradurre esattamente i pensieri, che hanno una loro velocità, che hanno, quasi si sovrappongono. E io ho scoperto, leggendo, quando Mara mi ha mandato il suo manoscritto, io sono stata appresa e ho dovuto finirlo subito, subito perché non si riesce a lasciare questi fili emotivi forti che ti tengono molto attaccato. Adesso, invece, entrando un po' nel prodotto, diciamo, che è questo libro, che ha una copertina meravigliosa, che è un quadro, un quadro di, dove è andato il nostro? Gregorio. È scattato, Gregorio, e io ti presento, sei dato. Gregorio, sì, sì. Che poi, durante questa presentazione, poi si capirà anche questo intreccio, perché anche qui i destini si incrociano, i destini si incrociano in una storia di cuore, no? Tu sei specialista del cuore, uno specialista del cuore. Non un cardiologo, ma quasi, i cardiologi vengono dopo, che diventa una magnifica storia totale. Allora, Mara, intanto, io te l'ho già chiesto, ma te lo richiedo. Cioè, come è nato dentro di te questo libro? Allora, nasce, l'idea, la prima idea nasce durante una mia lezione alla scuola di omeopatia, quattro anni fa. Il docente Angelo Micozzi parla quel giorno di questo rimedio meraviglioso, estratto dalle secrezioni di alcuni particolari tipi di balene, che si chiama Ambra Grisea. Lo racconta in una maniera così potente che io ho pensato ci devo scrivere qualcosa, perché ha raccontato la potenza anche sulla parte emotiva di alcune malattie che sono considerate dalla medicina tradizionale soltanto delle malattie fisiche. L'ha raccontata con una tale potenza che ho pensato, in quel momento lì, me lo ricordo ancora, ci devo scrivere qualcosa. Intanto mi appuntavo a Ambra Grisea, come è fatta, come non è fatta, i dosaggi. Poi è passato del tempo, perché io ho una gestazione un po' lunga delle cose che scrivo, vengo magari catturata da delle immagini, poi mi ci vuole sempre del tempo per metterle insieme. L'anno scorso, durante il primo lockdown, ho iniziato la mia prima stesura, ma ancora non avevo bene in mente. Sapevo che volevo raccontare una storia che è legata alla mia giovinezza, quindi l'incontro con un artista in Francia. Quindi io volevo raccontare questa storia, perché già allora, io ero al 95, io avevo 23 anni, e mi aveva colpito tantissimo. Nello scrivere l'incipit e nell'andare avanti, ricordo che io stavo correndo qua sull'alzaia e quasi un rider mi investì, e ho pensato questo è un bel incipit. E l'ho iniziato così. Nasce tutto da un trauma. E nasce tutto da questo incidente. Da questo incidente. Quindi io, diciamo, l'ho iniziato ad aprile, più o meno, ancora eravamo tutti in casa, quasi. I primi di maggio, perché potevamo uscire, se no non sarei andata a correre. Poi la storia si è articolata, e qui lo rivelo un po' a te che non lo sai, perché io ho avuto un incidente, poi, alla fine di agosto. Io l'incidente l'avevo già descritto, che era appunto l'investimento di Mila da parte del rider. Io in quel periodo mi sono ritrovata a letto, e diciamo che il libro ha preso un corpo notevole. Sì. Da questo. Notevole. Io stavo scrivendo già della mia passione per gli animali, perché in questo libro uno dei protagonisti è un cavallo. E quindi, diciamo che è diventato poi facile, visto che io sono caduta da cavallo, mettere, diciamo, quelle che erano un po' le mie sensazioni e le mie emozioni in questo libro. Quindi non ho sbagliato a dire che erano tutte le tue emozioni molto fondate, che sei riuscita a veicolare. Sì, poi mi hanno consigliato di evitare di scrivere di cose così tremende, perché me la sono, come se me la fossi un po' tirata. Però è andata così. È un libro così solare, talmente vitale, pieno di vita. Allora, proviamo a dire un po' di trama. Cioè Mila e Martino si incontrano appunto per un incidente. Cioè non si incontrano affatto, perché Martino, che fa il ride, investe questa ragazza che cade a terra, si fa anche molto male, e lui scappa, lui scappa. Sì, lui scappa. Da qui lei va a finire all'ospedale ed è qui che lei comincia a rivivere tutto il suo passato con una storia d'amore meravigliosa che prende due strade, cioè la storia d'amore con lui, con Zeno, e la storia d'amore con questo cavallo che però nel libro monta, secondo me, pian piano per sbottare alla fine, cioè alla fine c'è un boom. Martino invece scappa perché non ha il coraggio e anche lui si fa tutta una serie di... Ecco, siccome poi ognuno di loro ha delle storie che si raccontano, si rivivono, eccetera, dove appaiono altri personaggi, tu di questi personaggi hai avuto ispirazione da persone che hai conosciuto? Allora, Susanna, quasi tutto quello che io scrivo è ispirato a cose che mi hanno colpito, cose che mi sono state raccontate, cose che io ho ascoltato, non so, per esempio, racconti dei bar, tutto ciò che io vivo ispira la mia scrittura, cioè non riesco a scrivere nulla che non abbia colpito in modo forte la mia parte, diciamo, così emotiva, che io cerco di trasformare in un'immagine. perché sono molto reali, cioè questo è un libro, come piacciono a me, come... su tutti i libri, tutti i romanzi hanno comunque una sorta di ruolo di specchio poi nella realtà. Questo ce l'ha particolarmente, cioè può... ci si cala profondamente nella realtà di questi personaggi, nella realtà di questa storia, che può davvero essere una storia vera, una storia per come... e quindi è molto bello letterariamente poter... cioè, voglio dire, è molto bello saper scrivere letterariamente la realtà, la realtà dell'anima, no? E qui saltano fuori tante anime, compresa quella del cavallo. Sì, sì, penso che ognuno possa trovare la sua anima corrispondente oppure che noi, in ognuno di noi, ospitiamo tante anime di quelle raccontate nel libro. Perché io mi sono chiesta più volte Martino investe nila e uno poi che fa? Cioè, questi ragazzi, a parte la situazione di queste persone che lavorano in questa via ogni mattina, io e Gregorio ironizziamo sul fatto che ci potrebbero essere cinque, sei incidenti in mezz'ora. Ma questi ragazzi, poi mi sono informata con degli avvocati, non hanno delle assicurazioni, non hanno delle coperture. Allora noi, se fossimo al loro posto, io ho provato a calarmi nella realtà di una persona che fa un danno grosso e lì per lì cosa dice? Scappo. Cioè, umano, ecco, non perché io volessi scusare Martino, che poi ne combina un po' di tutti i colori, diciamo. E' uno che se ne va anche a cercare, proprio perché lui non ce la fa. Cioè, è uno che sbaglia facilmente, gli riesce facile. E questa cosa però lo attanaglia. Cioè, lui vive una situazione di... All'inizio dice, oh, chi se ne frega, tanto non lo scoprirà mai nessuno, tanto non ci sono le videocamere, tanto non le sarà successo niente di grave. Quando capisce, invece, leggendo su un quotidiano online, che la faccenda è seria, inizia dentro di lui un percorso angosciante, cioè arriva veramente forse a un punto limite e poi da lì qualcosa uno deve fare, quando poi si guarda un po' in faccia. E ho pensato che comunque potrebbe capitare a ognuno di noi una situazione in cui uno non sa cosa fare e la prima cosa che gli viene in mente è scappare. Molto ben definita dal punto di vista femminile, secondo me, è Mila. È proprio una donna affascinante. Affascinante perché esprime tutte le parti femminili più, chiamiamole pure classiche, ma che però sono quelle che si mantengono anche in ciascuna di noi, crescendo nel tempo. Lei è una donna, è una donna anche, cioè è giovane, ma è una donna quando incontra Zeno. Sì. Si comporta da donna, quasi trascina Zeno, adesso ho saltato, forse voi non sapete chi è Zeno, è il grande amore di Mila che lei in ospedale pensa, ricorda, eccetera. Zeno è molto più grande di lei, è un artista, è un uomo complicato, che pure lei è così leggera, leggera come sono le donne quando si indavorano e si dà e lo prende, lo accoglie, e lo accoglie come solo le donne innamorate sotto caso di lei. E va incontro così, a un destino che non sa qual è. Sì. Quando io conomi questa coppia che ha ispirato questo racconto, quindi una giovane donna innamorata di un artista così più grande di lei, un artista affascinantissimo, ma pieno di ombre, quando li ho conosciuti appunto era il 95 e anche lì l'emozione forte di dire mi piacerebbe raccontare, non sapevo niente di loro, mi piacerebbe raccontare la loro storia. Allora captavo dettagli, cercavo di immaginare come si fossero conosciuti, c'era la mamma di lui che un po' raccontava, che faceva sapere, ma non del tutto. Cioè era veramente intrigante la situazione, io sono stata ospitata da questa famiglia per un mese in un periodo in cui a Parigi c'erano gli attentati, cioè era la mia prima vacanza da sola all'estero e adesso capisco avendo le figlie che cosa si può far passare a dei genitori quando si decide di andare, perché avevamo deciso di andare e c'era ogni due giorni c'era una bomba che scoppiava. Noi eravamo in campagna, defilati, però ci arrivavano queste notizie di Parigi con questi cassonetti che esplodevano e quindi era tutta una situazione molto suggestiva, c'erano i cavalli che ho amato tanto in questa grande tenuta, quindi questo romanzo parte da lontano e questa coppia era molto affascinante, quindi lei era una donna bellissima, lui era così ricco proprio di carisma e io li immaginavo all'inizio della loro storia e ho inventato quasi tutto. Sì, diciamolo prima di... Comunque è una storia forte, anche questa. Una delle tante storie forti di questo libro, l'ho detto, questo libro racchiude tante storie, è la bellezza, la magia di questo libro è così, ma non solo, c'è anche tanta poesia, tanta poesia, perché alcune cose sono tue, quasi tutte tue. E anche le poesie che si inframmezzano con questo ritmo cardiaco letterario fanno parte di un cammino, un cammino della narrazione che è veramente originale. Lo sai, io te l'ho già detto, perché sono una tua grande... Vogliamo leggere per esempio la descrizione poetica che tu fai di ambra grigia? Sì. Aspetta che lo vedo. Allora, possiamo dire cos'è ambra grigia? Sì, sì, sì. Allora, ambra grigia è un rimedio omeopatico, come ho letto, ed era, diciamo, così suggestivo nel racconto di questo clinico, perché un medico responsabile dell'Associazione Italiana Malattie Proniche mi ha raccontato la storia di ambra grigia, quindi un uomo di scienza, non lo trovo. Eh, ce l'avevo qua, adesso te lo trovo io. Aspetta perché... Perché... Aspetta che te lo trovo. Eccolo qua, pagina 170. Lo guardo, e quindi un uomo di scienza che racconta veramente in modo poetico l'origine di questo rimedio e soprattutto il perché viene utilizzato. Quindi ambra grigia è utilizzato per tutte le sintomatologie simil cardiache. Quindi il famoso, diciamo, peso sul petto, mi fa male il petto, paura di avere un infarto, tutta quella sintomatologia ansiosa correlata a queste, manifestazioni che molto spesso sono gastriche, quindi è chiamata sindrome cardiogastrica, ma lui ne parlava anche nel risvolto emotivo. Cioè ambra grisa viene utilizzata anche per il cosiddetto mal d'amore, alla fine. la sindrome di cazzo sciubo, cazzo tsubo, ma non so bene come si dice, un po' crepa cuore, il crepa cuore, che è tipicamente femminile e lui diceva appunto, questo spasmo delle coronarie dovuto alle emozioni forti, soprattutto di tipo emotivo amoroso, lui disse, l'unico rimedio che noi conosciamo è ambra grisea, e quindi io mi innamorai, veramente. E ho scritto questa comoda. e ho introdotto come personaggio ambra grisea, che va un po' a sistemare delle cose che fino a quel momento sono tutte un po' in pezzi. Ambra grisea fa il suo debutto e io l'ho descritta così. Ho il colore della cenere, l'odore del mare, del sole e dell'aria. Prima galleggio morbida nelle acque calde, poi divento dura, secca e profumata. Mi raccolgono ormai solo lungo le coste dell'oceano indiano. Divento rara. Il simile cura il simile e questa è la mia prima regola. Sette gocce per tre volte al giorno. Per la pelle, i polmoni, lo stomaco, l'insonnia della notte, i torpori del giorno. Per la timidezza e il pianto, ma soprattutto per noi. Quello che prima o poi si ammala per tutti. Conto le ore che non si possono contare. Il mio nome è ambra grisea. Bellissimo. Veramente bellissimo. E qui, tu la descrivi quando lei, quando lei, perché ce la vediamo qua, entra in gioco. Entra in gioco quando Mila, il cavallo di Mila e di Sir non la vede più da tempo perché lei è in ospedale e si lascia morire come spesso avviene quando tra umani e animali c'è un legame così forte come forse solo i cavalli o molto i cavalli. Però tutti i nostri animali per noi che li amiamo così tanto sappiamo che è così. però questo cavallo meraviglioso si lascia andare e lo stesso Mila forse non riesce a reagire a quella sua situazione eppure sta guarendo e allora arriva questa giovane dottoressa che cura Elisir qua ci ho visto un po' di te possibile? Un po' sì 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 certo vi abbiamo un po' spoilerato la fine del libro ma no proprio la fine del libro no perché la fine del libro è veramente una sorpresa è una sorpresa è una sorpresa per ciascuno di noi tornando a questi pezzi di poesia bellissimi c'è anche quella scusate se sono ma non ho messo purtroppo ecco c'è questa bellissima a pagina 163 esistono parole d'amore sussurrate dai fantini sul collo dei cavalli e qui c'è un discorso cioè praticamente un discorso emotivo del cavallo perso di Lenino ti morsicavo un po' perché arrivavi con la faccia scura allora iniziavi tu a tirarmi la coda sapevi che mi sarei messo a correre nel prato dopo averti dato una piccola spallata trottavo e io giravo la testa a sinistra per vedere se riuscivi a inseguirmi cambiavo direzione all'improvviso tu mi afferravi la criniera allora ci trasformavamo nel vento entravamo nell'onda dell'aria come i puledri quando giocano poi mi abbracciavi il collo assecondavi i miei movimenti a bilanciere fino a che non stavo un po' fermo tu mi dicevi che mi muovevo sempre che su quattro zampe non ci sapevo stare anche da fermo dovevo muovere i muscoli i pellicciai della spalla del dorso quando dovevi farmi il prelievo di sangue la prima volta come per scacciare i moscerini spostavo apposta la succlavia per farti un dispetto tu mi appoggiavi la mano sul guerrese ti voltavi verso il mio orecchio e dicevi dispettoso e io sbuffavo ecco questo cavallo monta come ho detto nel libro proprio poi forse anche la morte di Zeno ha aumentato il rapporto tra di loro sì perché sicuramente quando Mila si assenta per così tanto tempo lei stessa rievoca degli altri dolori e sono convinta comunque che tra una persona e un animale quando c'è un rapporto così stretto le emozioni passano le emozioni si sentono e diciamo anche nella mia attività lavorativa non è così infrequente sentire in questo anno è successo tantissime volte proprietari che sono mancati animali che si lasciano morire animali che non si riprendono più è successo di sentire tante storie proprio perché quando viviamo così una simbiosi questa bolla emotiva con un animale che amiamo tanto questa cosa è una cosa che accade quindi ci si comprende anche senza parole anche nelle emozioni diciamo soprattutto nelle emozioni più forti ma qui chi salva chi? si salvano a vicenda secondo me sì secondo me si salvano a vicenda da lontano sì si salvano a vicenda perché le emozioni comunque viaggiano nello spazio non hanno bisogno della vicinanza fisica e sicuramente Andra Grisea li ha aiutati e si salva anche Martino in fondo no? sì un po' da se stesso da quel tu Martino che è il rider famoso che alla fine è scappato come dicevamo prima vedendo che la situazione era grave la ragazza stava male ha iniziato il percorso anche di rinascita di se stesso gli ho dato una possibilità tu gli hai dato la possibilità gli ho dato tante possibilità a Martino che è un personaggio al quale sei più legata non so dirlo allora Martino perché rappresenta le nostre debolezze e quindi anche l'amica Linda ad esempio che è anche la ex fidanzata di Martino che è diciamo che in persona tutte noi donne quando abbiamo degli amori sbagliati quegli amori che non funzionano ma uno si ostina e a chi non è successo quindi non saprei dire però a Martino diciamo che ho dato ho dato tante possibilità speriamo che usi bene abbiamo futuro a tutti e vorrei anche dire che vi faccio una domanda la faccio a te secondo te scrittore si nasce o si diventa? allora io la passione per la scrittura ce l'ho da io ho la passione per la lettura perché anche nei ringraziamenti io ringrazio la lettura e quindi non avrei mai scritto se non avessi avuto la possibilità di leggere è vero che la mia scrittura cambia sempre Luisa mi ha conosciuto cinque anni fa con il mio primo romanzo Tutto il resto è soia e questo se avrai modo di leggerlo è molto diverso molto diverso molto diverso sembrava cioè quando stavo ragionando proprio ricordandomi la scrittura cambia con noi penso allora secondo me la scrittura si nasce e poi ci si affina si fa però secondo me si può anche lavorare tanto si ci devi lavorare tanto no? si però insomma non è da tutti riuscire a non è che sto dicendo che è un pregio o non è un pregio però bisogna averla questa cosa dentro no? che è fatta di curiosità di voglia di vedere le parole di trovare le parole per dire quello che si sente per scrivere per e quindi io in questi anni ho fatto tante scuole cioè mi sono applicata allo studio un po' della scrittura qui c'è Federica che è mia compagna di Accademia di Poesia è la prima Accademia di Poesia a Milano e la frequentiamo insieme da quando è nata anche la poesia ce l'hai dentro però la eserciti ti eserciti tanto e quindi questo mix che è un po' è uscito fuori con Ambra Grisia di prosa e poesia è frutto anche di tanto lavoro di tante letture dei grandi poeti di quelli che non avrei mai potuto conoscere quindi ecco probabilmente la scrittura cambia anche insieme a noi alle nostre esperienze al nostro sguardo dove decidiamo di impoggiarlo certo però appunto secondo me è un qualcosa che nasce insieme a una persona e poi naturalmente va esercitato bisogna lavorarci che cosa rifaresti di questo libro lo rifarei uguale esatto io adesso lo rifarei uguale sì sì non hai ecco questo è anche il segnale che un libro ci appaga appaga prima di tutto chi l'ha scritto e poi appunto anche questo si sente si sente che tu sei appagata da questo da questo libro allora arriviamo ai cuori e all'incontro con Gregorio Mancino perché? sì ma anche qui è una cosa che è stata veramente un caso perché io un giorno avevo finito il romanzo ed era in cerca di editore un giorno era un sabato mi ricordo per Milano ho visto un'auto io abito qui da tre anni però con Gregorio non ci eravamo incontrati ho visto un'auto con un cuore disegnato e lo dico ma cavolo quel cuore è dell'artista che ha lo studio sull'Alzaia mi ero folgorata da questo cuore allora io e mio marito spesso la mattina veniamo qui a prendere il caffè e quella mattina dico io stamattina chiedo all'artista se me lo può fare anche a me il cuore sulla macchina era presto otto e mezza busso e chiedo dico ma buongiorno ho visto un cuore volevo sapere se posso averlo anch'io sulla mia macchina certo quando vuoi quando vuole glielo faccio e da lì è iniziata un'amicizia poi parlando e ti ha fatto un cuore su un'accomico esegnato come li fa lui con i suoi colori io ho una ruota di scorta bianca quindi io avevo proprio visto la stessa auto e ho detto lo voglio anch'io questo cuore ancora noi eravamo lontanissimi da una copertina da tutto parlando con Gregorio gli dico ma sai no eravamo passati a tu io ho scritto un libro gli ho fatto un po' un riassunto perché per me non è facile riassumere Ambra Grisea però gli ho raccontato che Ambra Grisea è uno dei protagonisti del romanzo ed è il rimedio per il cuore spezzato e parliamo ancora qualche settimana e alla fine è venuto come spontaneo pensare ma non è che Gregorio mi fai la copertina di Ambra Grisea e lui mi ha detto sì sì perché no e quindi questa è un'opera questa è un'opera questa è un'opera che io mi porto dietro per schiarare quindi questa è un'opera che è proprio un quadro che adesso sta in casa mia ed è fatto apporto per Ambra Grisea quindi ci sono delle piccole ferite con dei cerotti c'è un ferro di cavallo che ho preso nel mio maneggio c'è un copertone di bicicletta che forma il cuore quindi è stato proprio pensato per per Ambra Grisea e poi quello che io leggo in questo dipinto è nonostante tutto quello che ci succeda le nostre ferite le nostre le cose anche diciamo che ci portiamo dietro da sempre che ci porteremo sempre dietro da cui magari non guariremo mai ci sono dei limiti da cui noi non usciremo mai ma magari da questi limiti da queste ferite magari è una volta buona che c'è una volta che sboccia una cosa bella questo oggetto di colore lo dà un messaggio lo dà secondo me si sente e quindi la copertina è nata così